Caso Cadella Robinia, la Coop fantasma di Nervesa, la presidente Bruna Milanese è stata iscritta dalla procura nel registro degli indagati con l'accusa di malversazione. Altri potrebbero venire indagati nelle prossime ore, dirigenti pubblici e amministratori, ai quali potrebbe essere contestato l'abuso d'ufficio. Nella bufera era finito il fondo di rotazione per l'assegnazione di contributi sociali ideato dall'allora assessore regionale Remo Sernagiotto. Dopo una notte in discoteca con gli amici è salito ubriaco su una corriera della MOM, in via Postumi a San Biagio. Ma subito un 22enne senegalese residente a Marcon ha iniziato a dare in escandescenze, danneggiando il mezzo pubblico e scagliandosi contro un passeggero, un 56enne di San Biagio, che cercava di calmarlo. Il malcapitato ha rimediato pugni e graffi, l'autista ha fermato il mezzo e ha chiamato la polizia. Il giovane, da poco scarcerato, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento gravato e lesioni. Casalinga di 59 anni derubata della borsa ieri pomeriggio in via Montegrappa a Castelfranco, mentre rientrava a casa in bicicletta. Le si è accostata un'auto e con mossa veloce il passeggero le ha sfilato dal cestino della bici la borsa, contenente poche decine di euro e il telefono. Intorno alle 2.15 di questa notte, invece, a Preganziol sul Terraglio, scippata una prostituta, il passeggero di un'auto le ha strappato dalle mani la borsa, contenente 500 euro. Paura questa mattina all'alba per una 21enne di Volpago, finita fuoristrada con la sua macchina a Montebelluna. L'auto si è ribaltata su un fianco, la ragazza ha riportato gravi feriti ed è stata ricoverata all'ospedale cittadino. Erano le 5.40 quando la giovane ha perso il controllo della sua Fiat Panda a lungo via Zapparè. Immediata la richiesta di soccorso dei residenti delle case di fronte e l'intravento di SUEM e vigili del fuoco.